Allora, Trump è in ospedale, il trasferimento è avvenuto dopo un peggioramento delle sue condizioni, sospeso ogni impegno elettorale, ma i repubblicani non si scoraggiano, non influirà sul voto. Sentiamo Anna Mazzone e a seguire sentiamo il corrispondente, Dario Laruffa, dall'Ohio. 24 ore dopo l'annuncio di essere positivo al Covid-19 insieme alla First Lady Melania, l'elicottero presidenziale si alza dal giardino della Casa Bianca per portare Donald Trump all'ospedale militare Walter Reed. Sta andando bene, credo, twitta dopo pochi minuti il presidente dall'ospedale. Il suo staff è preoccupato. È un cambio di rotta dopo le assicurazioni che sarebbe stato curato alla Casa Bianca. Sembra che i sintomi del virus si siano aggravati. Trump rimarrà in ospedale per diversi giorni, al momento respira senza ossigeno. Stravolta l'agenda elettorale. I medici gli hanno somministrato gli anticorpi policlonali e un antivirale sperimentale, il Remdesivir, che si usa nel trattamento di Ebola. Intanto a Washington si contano i positivi. Dal manager della campagna del presidente, Jim Stepien, a Kellyanne Conway, ex consigliera di Trump. Positivi anche due repubblicani della Commissione Giustizia del Senato. La nomina della giudice Barrett, scelta da Trump per la Corte Suprema, potrebbe essere congelata. Get well, Mr. President. Guarisci, signor Presidente. Così il New York Times in prima pagina. La salute del capo del paese è fonte di preoccupazione per tutti gli americani, scrive il quotidiano che si è sempre opposto a Trump. Guardiamo a Washington dall'Ohio, stato tradizionalmente decisivo per l'elezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.